Allora, nuovamente benvenuti a tutti dopo la pausa. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo numerosi come la volta scorsa e ricordiamo appunto che ci vedremo ancora qui dal vivo il 15 marzo. Non so se Lorenzo metterà la diretta anche per la prossima volta, sì lo possiamo confermare. Non diciamolo troppo a casa se no non vengono, forse la metteranno. No, noi speriamo di vedervi dal vivo perché è un'altra cosa poterci confrontare. Chiaramente gli amici che sono lontani, ringraziando quelli che hanno fatto diversi sforzi per arrivare, vanno premiati. Mi hanno appena chiesto qui dalla sala, ma penso che possa essere una cosa interessante per tutti. Su un nostro metodo classico intraday che è il grafico 30 ticks sul DAX con lo zig settato a 15 punti, che vuol dire che noi riteniamo movimenti inferiori a 15 punti come movimenti erratici, movimenti superiori come movimenti che possano dare un trend, dopodiché si cercano successioni di massimi e minimi decrescenti, dove c'è la freccia rossa c'è il punto di rimbalzo, c'è il punto di short, dopo lo short c'è un punto di rimbalzo. Nel momento in cui, dopo l'entrata, il trend è già definito come ribassista, voglio nuovamente rientrare con il cosiddetto RR, con un'entrata migliorativa rispetto all'entrata originaria, mettendo un grafico con il price rate of change settato a 50 punti, quando questo valore raggiunge i 20, è un metodo ancora sperimentale che naturalmente, come ognuno dei metodi che noi proponiamo, sono metodi didattici, ognuno proverà a suo rischio e pericolo dopo aver fatto almeno una cinquantina di prove, appunto dopo su questo valore si potrebbero trovare delle zone dove poter andare al ribasso. Questo vale solo per il ribasso, non vale per il rialzo, perché abbiamo visto diverse volte che questo valore tende, con i mercati in discesa, ad essere forato molto più facilmente. Sulla destra vediamo il grafico del DAX 10 minuti con lo zig settato a 0,3%, che è diverso dal grafico a sinistra. Questo è un grafico, ripeto ancora per gli amici da casa, si entra alla rottura del punto 2 dove c'è la freccia rossa, punto 1, punto 2, punto 3, si entra solo se questa distanza è inferiore a 150 punti, in questo caso invece era a 50 punti, in quello intraday. Il grafico di destra non ha limiti di orario per entrare, il grafico di sinistra invece ha, essendo un grafico intraday, noi cerchiamo le entrate nelle fasce orarie classiche tra le 9 e le 11 e tra le 15 e 30 e le 17 e 30. C'è stato il segnale di ribasso qui, lo stop è al punto 1, che è stato solo sfiorato ma non è stato preso, andiamo a vedere dalla piattaforma, il punto di entrata è la chiusura della candela che definisce il vertice, e già la piattaforma mi segna il 12.508, su Excel andrò a segnare che da 12.508, prima di andare allo stop che non è stato toccato, è andato addirittura a 12.439, quindi ha fatto 70, quasi 80 punti, diciamo, di profitto, con uno stop, in questo caso, dello stesso ordine in grandezza, quindi di un'altra ottantina di punti. Cosa ce ne facciamo di questi dati? Noi, tutti quelli che scriveranno alla mia mail massimo.vita-fastwebnet.it saranno i benvenuti nel nostro gruppo, a chi ne farà richiesta inviamo il file Excel, dove inseriamo, e volevo farvi vedere velocemente, prima che cali il sonno post-prandiale, mi raccomando, sono cose importanti, noi diciamo sempre che il trading si fa prima su Excel, come ci confermerà anche Paolo, io qui vedo sulla mia sinistra cose che voi umani non potete vedere, perché Paolo Belcari, che viene dal Pisano, è esperto di opzioni, ha dei file Excel molto più approfonditi, molto più complessi dei miei, però l'idea è quella, qualsiasi operatività che noi facciamo, come il nostro ingegnere ci insegna, deve essere supportata da una statistica. Quindi noi, su Excel, andiamo a inserire per il DAX 10 minuti, il punto 1, quindi è il vertice, il punto 2, che è il punto che una volta che è violato diventa il punto di entrata, e lo stop, che naturalmente è la distanza dal punto 1 al punto 2. Dopodiché, ex post, andiamo a inserire qual è il target che ha fatto il mercato dopo l'entrata, prima di andare a riprendere il punto 1 come stop. Nel primo caso abbiamo iniziato con il future di dicembre 2016, in questo caso è stato uno stop di 70 con un target da 180 e via via via, andiamo a calcolare tutti i vari valori. Ero rimasto, prima di ieri sera, a quello che era successo al 23 gennaio, che era l'ultima data prima di vederci, c'erano stati circa 104 casi, la prima riga naturalmente non si conta. L'ultimo caso era stato un caso con lo stop a 99 punti, un profitto a 360. Noi non andiamo a cercare le zone che massimizzano i profitti, ma andiamo a guardare che lo stop medio in tutti questi casi è stato proprio di 80 punti, proprio precisi, anche nel caso di operazioni che non sono andate poi in stop. Invece nella realtà, quelle che sono andate veramente stop, che sono state solo 16 su 104, lo stop medio è stato leggermente inferiore, ma per approssimazione, per sicurezza, noi lo mettiamo sempre come 80 punti. Come profitto abbiamo visto che con la funzione percentile che noi utilizziamo, potete vedere la formula qui su Excel, questa formula qui sta dicendo che solamente nello 0,167, solamente nel 16,7% dei casi, il mercato non è riuscito a fare più di 43 punti, quindi almeno 43 punti l'ha fatti l'inverso, l'83% delle volte. Volevo farvi vedere velocemente cosa è successo durante questo pazzo mese di febbraio, durante il quale sembra che siano saltate tutte le regole, siano saltati tutti i sistemi, purtroppo sono saltati molti trader che anche qui hanno solo venduto opzioni senza sapere appunto che la perdita è limitata. Andiamo a vedere, se noi avessimo utilizzato da scolaretti o con un trading system, questo sistema, cosa sarebbe successo con il DAX 10 minuti 0,3? Cosa voglio dimostrare? Prima andiamo a vedere cos'è successo, poi andiamo a fare le conclusioni. Vedete che i casi sono passati da 105 a 122. Ci sono stati dal 17-1, quindi dal 24-1 che è stato il giorno, adesso se volete velocemente andiamo a vederne qualcuno, dal 24 gennaio al 26 febbraio, 17 casi di cui 2 sono andati stop e il terzo io ieri sera, dovendo fare la statistica, avevo supposto anche uno stop che poi in realtà oggi non c'è stato per nulla. Quindi in questo caso, così possiamo vedere come si segnano i casi, io ho detto ha chiuso praticamente lo stop ormai, per sicurezza vado a segnare come se oggi mi avesse preso lo stop. Non me l'ha preso, in ogni caso noi guardiamo che su 17 casi ci sarebbero stati 3 stop che adesso sono diventati 2, ma anche qui, quindi 5 volte su 6, avremmo potuto fare 42 punti. Ripeto, adesso sto andando a correggere l'ultimo dato che per nostra fortuna non è andato in stop, ma è andato a target. Ho fatto anche sulla colonna destra, non mi interessa sapere che qui ha fatto 300 punti di profitto, 1000 punti di profitto, tanto io so che noi stiamo provando a vedere con uno stop medio di 80 punti, se io sono fifone e prendo profitto sempre a 42 punti, è un'operatività replicabile, è un'operatività innanzitutto profittevole? O cosa? Sono andato a fare per questo mese di fine gennaio, fine febbraio, anche sulla colonna destra, il progressivo degli utili. E qui, adesso quindi, cambieremo l'ultima riga, andando a scrivere, che finora, perché ancora lo stop non è stato preso, quindi finora ancora il segnale ribassista è ancora in piedi, andiamo a prendere, poggiando il mouse sulla candela che ha fatto il minimo, il minimo è stato a 429,5, noi mettiamo 430, siamo ribassisti per avere la certezza di avere eventualmente avuto l'eseguito. Quindi questo sarebbe un minimo, ripeto ancora una volta, punto 1, forse è meglio che faccio copia e incolla di questo, così si vede meglio, copio e incollo. Mi raccomando, naturalmente, non andate in panico, poi vi mandiamo tutto il file per chi lo vuole. punto 1, 12,592 punto 2, 12,508 1 e 2 siamo entrati short qui, non siamo andati in stop, io erroneamente ieri avevo supposto di prendere lo stop stamattina, quindi andiamo a segnare su Excel, prima di prendere lo stop, dove è andato? a 12.430 quindi segniamo, togliamo lasciamo il giallo, nel senso che è ancora un valore provvisorio, ma in ogni caso è un valore che mi ha dato sicuramente, avendo fatto già almeno 78 punti di utile io voglio uscire a 42 sono riuscite a uscire in utile il progressivo di questo mese sarebbe stato 460 punti di DAX 460 punti di DAX per 25 forse è meglio che mettiamo un uguale prima un valore in euro che è simile all'utile che ho fatto vedere che ho fatto in un mese facendo tantissime operazioni naturalmente gli amici di WeBank sono contenti se noi generiamo tante operazioni e soprattutto se vanno tante inutile però da un punto di vista teorico un trading system oppure il trader che stiamo aspettando quello migliore di noi che segue in maniera disciplinata senza tanti trucchi mentali senza tanti sotterfugi avrebbe potuto fare con un DAX questo valore che è dello stesso ordine di grandezza e paragonabile con l'utile che ho fatto io nella realtà nell'arco di un mese andiamo a riguardarlo un attimo per chi non era collegato stamattina prendiamo il portafoglio adesso non ci sono posizioni aperte quindi dall'ultimo evento in cui ci siamo visti ad adesso è stato fatto un utile di questo ordine di grandezza andiamo a guardare anche la perdita maggiore un DAX abbandonato perché come ci insegna Fabio quando facciamo le statistiche dobbiamo anche ricordarci che qualche volta qualche operazione salta questo non è proprio un utile una perdita di 5.000 euro perché nel frattempo c'erano dei mini DAX che stavano proteggendo la posizione quindi bisogna vedere la compensazione a fine giornata comunque quello che voglio far vedere è che l'utile maggiore è stato un utile della parte del boostox nei giorni di follia nel quale si poteva shortare dopo il picco questo è stato il 6 febbraio vi ricordate il minimo è stato il 5 invece di shortare delle put che abbiamo detto nude non si fa a meno che non non siate degli esperti poi Paolo magari dopo vi farà vedere quali sono le circostanze nelle quali lui a suo rischio e pericolo si può fare parentesi domanda che ci hanno fatto durante la pausa Paolo shortare il put su sp500 è una cosa shortare delle put su eni e magari è un'altra perché male che vada le hai comprate con lo sconto è tutta un'altra cosa quindi facciamo anche questa dovuta differenza comunque volevo farvi vedere che l'utile maggiore è stato fatto con una percentuale dell'1% su un mini naturalmente e il metodo che sto utilizzando quando la performance è maggiore dello scalping è solo esclusivamente questo ora io volevo come giustamente mi consigliava Paolo volevo dare tanto spazio agli amici Fabio e Paolo che hanno parlato tra zero e pochissimo stamattina però prima di tutto anche per correttezza agli amici che ci seguono da casa volevo fare una velocissima carrellata per farvi vedere come funziona il nostro gruppo nel senso che noi normalmente agli eventi proponiamo prima di tutto quello che le slide i grafici che ci sono piaciuti di più nell'ultimo periodo e allora ve le ripropongo sapete che giovedì nevica però poi arriva la primavera e dobbiamo attrezzarci per cercare di non stare 14 ore al pc prossimamente questo lo faceva vedere Fabio Gaudioso stamattina l'evento catastrofale grazie Fabio questo è un fondo XIV è l'inverso del VIX è un fondo che speculava sul fatto che la valutabilità continuasse continuasse a calare all'infinito e questi potevano shortare le put in un unico giorno non solo ha perso il 90% ha perso 90 euro quindi sarebbe il 92% è andato a 8 ma hanno deciso dopo aver perso 2 miliardi di euro o di dollari che questo era il cosiddetto termination day cioè non si sarebbero più ripresi dopo questo evento quindi chiuso finito e allora qua mi viene un pensiero noi stamattina per chi non c'era dicevamo non cerchiamo scuse cerchiamo risultati che scusa posso dare io ai miei figli nel momento in cui faccio una cosa del genere ho scusa è aumentata improvvisamente la volatilità sei rovinato questo è il problema adesso vabbè è quaresima per i credenti questa consentite in questo mondo purtroppo noi veniamo in contatto con questi tre elementi denaro ciarlatani vita virtuale insomma cerchiamo di starle un po' alla larga e non far diventare i nostri padroni partendo dall'ultimo questo ormai penso che non ci siano dubbi ne abbiamo già parlato mi hanno chiesto di segnare col mouse così vedono anche da casa questo è quello che è successo proprio ieri mattina alle nove il prezzo tagliava entrava tagliava e cuciva la regressione 131 non ci interessa non mi dicono che il puntatore non si vede si quello del mouse l'ho messo non si vede si vede si vede si aspettiamo la chiusura della prima candela 100 tick in cui c'è il cambio definitivo del colore quando c'è la candela che cambia colore e ancora non ha chiuso vedrete questa roba che diventa verde diventa nera quando c'è una candela che chiude sotto questo diventa verde quindi noi a 12.506 potremmo shortare per fare almeno lo 0-37% allo stesso modo uguale e contrario poi al pomeriggio ieri abbiamo avuto due ottimi segnali quindi lo short è qui si scende qua giù non interessa che la candela successiva diventi di nuovo nera nel momento in cui siamo andati a ribasso esiste solo lo stop esiste solo il target statistico e al contrario io avevo segnato purtroppo ho fatto solo lo 0-17 ieri quando io segno perché magari sono già uscito dall'operazione e abbiamo visto stamattina che il segnale uguale e contrario che noi prendiamo solo nella fascia tra le 3.30 e le 5.30 ha fatto ben oltre lo 0-17 che ho fatto io è andato addirittura a 12.580 però noi questo lo sappiamo col senno di poi dobbiamo vedere quante volte su 100 riusciamo a fare almeno una ventina di punti questo è il nostro scopo sempre ieri sono stato chiamato da Emerick su Classi NBC e ho detto guardate naturalmente si parte con l'analisi del Fussimib io non voglio essere un guru non mi ritengo tale io vorrei che questi grafici basic di medio periodo grafico 4 ore super trend standard 3.10 sul Fussimib c'è bisogno di commentarlo questo è un grafico che si commenta da solo diventa rosso qui non riesce a passare fa due ottime resistenze qui non riesce a passare fa due ottime resistenze che chiamiamo tetti qui fa il cosiddetto doppio minimo sporco non ci interessa noi possiamo cominciare a operare al rialzo da questo punto in poi se vogliamo o ancora meglio sul pavimento perché il nostro stop sarà più piccolo al pari dello zig che vedevamo stamattina quando noi entriamo al rialzo qui dov'è lo stop? se questa roba qua diventa rossa se noi riusciamo a entrare più vicini allo stop possibile e questa roba qui fa da pavimento abbiamo un rischio limitato per una potenziale salita elevata ieri al contrario ho detto guarda che però il DAX 12.600 farà fatica a superarla perché primo perché il massimo di swing che hanno fatto i mercati americani hanno già superato nei mercati europei non è stato superato per nulla quindi sono relativamente più deboli rispetto ai mercati europei e poi ho questa cosina qua senza fare il guru che si chiama supertrend è diventato rosso e non ha come si dice come direbbe Lillo non ha più visto lustro da lì ieri è andato a sbattere sul tetto 12.600 e sta venendo giù quindi supertrend 4 ore il DAX 10 minuti che mi dava il segnale ribassista siamo ribassisti si può fare anche un'analisi intermarket guardare il 4 ore guardare il 10 minuti dopodiché uno può decidere se i segnali sono concordi lo provo se sono discordi magari rischio anche meno questo è il grafico domanda di Emilio però ti dovremmo dare il no per gli amici da casa abbiamo l'obbligo di darti il microfono perché sono molti di più quelli da casa quindi comandano loro Massimo? ora ti diamo il microfono vai domanda di Emilio vai bene puoi tornare per favore sul grafico del FuziMib a 4 ore? eccolo qua no quello di prima con super trend mi sa che sto andando indietro invece di andare avanti sono andato indietro ok ecco sì quello di destra aspetta che lo faccio a tutto schermo sì ecco torniamo sul grafico 4 ore FuziMib super trend sì allora questo è un 4 ore sì d'accordissimo per farsi un'opinione generale per molti giorni anzi più di un mese in quel caso lì però operativamente sì correggimi se sbaglio tu non avrai deciso strategicamente uno short su un 4 ore l'avrai fatto su un settaggio inferiore sì come puoi regolarti come puoi regolarti in questo caso sono tante le occasioni in cui io prendo un 4 ore che è sicuramente dominante come in questo caso da ottime indicazioni poi magari il time frame che io scelgo operativamente il 15 minuti il 5 minuti può darmi con lo stesso strumento a supporto può darmi un'indicazione magari opposta come ci si regola in questo caso sì la domanda è facile classica è corretta anzi ti ringrazio per la domanda io faccio notare una cosa intanto noi abbiamo avuto un crollo importante nel mese di febbraio inizio mese di febbraio normalmente il metodo di trend quando ci sono dei crolli è già a favore qualche giorno prima quindi se noi riusciamo a evitare che la gente su grafici di metodo medio si faccia male è già un un vantaggio noi come gruppo il nostro primo obiettivo è evitare che la gente compri durante questa discesa perché il mercato è sceso di mille punti e deve rimbalzare il grafico del Fuzzimib diventa negativo a 4 ore però io con un segnale più breve ho un segnale rialzista che faccio la domanda di Emilio giusto corretto lo dicevo prima io se ho un time frame breve che mi dà il rialzo sicuramente faccio il rialzo però so che sto andando contro alla tendenza di medio quindi sicuramente se ho la possibilità di scegliere di fare un Fib o un Fuzzimib o due Fuzzimib cercherò di stare un pochino più tirato un po' tirchio con gli importi so che sono contro la tendenza di medio poi non abbiamo la spera di cristallo può anche darsi che se avessi messo l'importo pieno avrei avuto successo è una regola di carattere generale al contrario in questo periodo il mercato è in fase di medio rialzista per cui devo sapere che lo short è meno favorito quindi se devo fare lo short piano piano non solo allo short io aggiungerei l'analisi della volatilità che la vedremo nelle prossime slide non so se ho risposto alla domanda poi c'era una domanda da Lillo in prima fila aspetta che ti diamo avere un ingegnere come assistente ce non capita tutti i giorni cioè è una roba lui ha altre qualità rispetto a noi e adesso le vedrete presto quindi io vado veloce così sto zitto vai hai visto eh no prima tu hai detto che seguivi gli indici americani hai visto che hanno tirato più di quelli europei per cui eri incredulo o per meglio non credevi che gli europei sfondassero a rialzo no no quelli hanno sfondato gli indici americani hanno sfondato questi valori qua adesso li vediamo vediamo il grafico è 4 ore di SP500 di Nasdaq e ti accorgerai che i massimi del 7 febbraio li hanno superati ma da un pezzo addirittura sono arrivati quasi scusate vicini ai massimi storici un'altra volta quindi sono hanno un grafico che è arrivato se fosse un DAX sarebbe arrivato in area 13.300 13.400 paragonandolo lo vedremo dal vivo vado veloce questo è il grafico che in assoluto domanda mia mi è arrivata durante la pausa se hai detto 100 il tuo patrimonio cosa faresti farei l'80% leva 1 su questa roba qua se mi va male mi tengo un titolo che da un 6% di dividendo ma se mi va male quando va in rosso lo vendo per riprendere a prezzi più bassi questo è il grafico di Eni 200.000 volumi super trend non solo da degli ottimi trend ma anche da degli ottimi segnali di tetto e pavimento qua un'ottima entrata a basso rischio un'ottima resistenza nella slide di prima questo era mano a mano che si è verificato quindi sto andando indietro nel tempo quello che si è verificato è uno dei 17 casi o più di due in questo caso dei 17 casi di zig che sono stati che sono accaduti appunto nel mese di febbraio qui abbiamo avuto punto 1 punto 2 punto 3 alla rottura del punto 2 in questo caso abbiamo potuto fare da 408 a 363 i nostri 42 punti ci sono stati in questo caso specifico che abbiamo commentato stamattina siccome ho fatto la slide lo ricommentiamo punto 1 punto 2 punto 3 la rottura del punto 2 dà il segnale di rialzo non mi interessa questo short intanto era alle 21 e 30 quando il mercato sta per chiudere ma il segnale abbiamo detto che è in piedi fino a quando non viene toccato lo stop teoricamente avendo escluso lo short qui per orario non devo andare a segnare su excel che il profitto massimo è stato dello 0,81 ma posso andare anche a segnare che il profitto è stato dell'1,14% tanto a noi ti interessa poco perché abbiamo visto che ci fermiamo sempre a 42 punti ma perché ci fermiamo a 42 punti quando non è oggi l'occasione perché vorrei fare parlare Paolo e Fabio di più quando ci sono dei valori che massimizzano gli utili potremmo fare arrivo subito finisco il concetto e arrivo alla domanda potremmo fare qualcosa di più tirando 67 punti credo poi devo aggiornarlo con la statistica dei degli ultimi giorni di febbraio perché aumentando troppo il profitto aumentano a dismisura i falsi segnali è vero che alla fine dell'anno massimizziamo l'utile però invece di prendere tre stop magari ne prendiamo dieci da un punto di vista mentale non è sostenibile quindi noi non massimizziamo l'utile e cerchiamo quello che mentalmente sia sostenibile per farvela breve fino a fine gennaio abbiamo fatto da settembre 2016 2400 punti di DAX con un drawdown massimo di 300 punti una volta sola se io devo farne invece 2700 quindi 300 punti in più avendo dieci volte degli stop in più e due volte essendo andato in perdita di oltre 10.000 euro state sicuri che è pura teoria però poi questa roba qua non la fa nessuno quindi quando vi dicono massimizzare gli utili in questo modo noi cerchiamo quello che sia mentalmente sostenibile c'era una domanda grazie Lorenzo volevo capire meglio il perché non si fa quello short dopo l'1-2-3 questo? sì allora raggiungiamo l'obiettivo dei 40 punti e chiudiamo l'operazione giusto? ecco poi perché quell'1-2-3 ribassista non va fatto? perché erano le 21.30 o le 21.50 io non apro una posizione sul DAX a quell'orario lì se fosse stata le 3.30 io avrei potuto dire vero ho già ottenuto il mio target rialzista perché no? perché la posso anche provare ma è una questione di orario allora non perché quella gamba lì fa parte del profitto no se avessi già chiuso in profitto perché no io se fosse stato un orario decente sì quindi bisogna che stiamo attenti normalmente noi non abbiamo dato orari sul DAX 10 minuti lo zig 0.3% però voglio dire tu te la senti di shortare una roba alle 9.30 di sera? io nemmeno no ok non l'ha prescritto il medico grazie molto gentile vado avanti velocemente con le slide qui quando volete potete associare come facciamo noi il grafico di Eni 200.000 volumi rialzo qui rialzo del crude oil sulla destra rialzo qui sulla parte destra stiamo parlando di 0.36% e anche dello 0.85% qui c'è stato un ottimo rialzo del crude oil di aprile purtroppo in questo caso a differenza di Eni c'è stato anche un brutto falso segnale possono succedere falsi segnali con il super trend ma il concetto è questo noi abbiamo shortato qui il crude oil a 61.7 abbiamo preso uno stop di 40 centesimi perché abbiamo dovuto chiudere lo short a 62.10 sono 400 dollari li avremmo potuti riprendere dall'altro lato questo è il concetto cioè quando va male chiudere e come abbiamo fatto come ha dimostrato oggi anche la regressione se non ha forza di andare di qua è chiaro spesso volentieri è probabile che andrà di là non è matematica non è scienza esatta però come dicono gli amici di Roma che ci seguono che salutiamo se non va di qua va di là esattamente questo è un altro è il 23 quindi era cos'era venerdì? sì venerdì venerdì non sto qui a commentare l'ottima salita del giorno precedente magari la vedremo nell'azienda successiva qui apre con il gap pericoloso lo chiude non lo chiude non lo so so solo che questa roba qua è diventata negativa qui e qui bisognava provarci ho scritto sia nel gruppo nel telegram non so se l'abbiamo scritta nella mailing list in questi giorni siamo stati un po' assenti nella mailing list per altri problemi ma adesso cerchiamo di non tralasciare gli amici nella mailing list che sono ancora i maggiori ricordiamo sia gli amici in sala che quelli da casa che bisogna iscriversi sia alla mailing list massimo.vit chiocciola fastwebnet.it sia al gruppo telegram perché alcune cose che mandiamo nella mailing list non le possiamo mandare nel gruppo qui avevo segnalato infatti la slide è proprio fatta in quel giorno che il pavimento del nasdaq quattro ore poteva essere un ottimo segnale rialzista dove il nasdaq ora non ci interessa saperlo quella è storia successiva per rispondere alla domanda di Lillo vedi questo è il massimo di swing del nasdaq del 7 febbraio quello che corrisponde al 12.6 del dax e il 23.000 del fib il nasdaq è già è già passato è già è già molto più in alto e anche il sp500 questi sempre andando indietro sono degli altri zig non vi sto a tediare perché sono andati veramente molto bene questo mese speriamo che vadano ancora bene nei giorni nei mesi prossimi però vi faccio notare che in ambiente di alta volatilità funzionano in un ambiente di bassa volatilità funzionano cioè abbiamo un'ottima speranza che possono essere ancora utili in maniera indipendente dalla volatilità invece in maniera dipendente dalla volatilità c'è il Vostox ieri dicevo in tv ma a me ho fatto uno short in diretta ho preso i soliti 20 punti con la regressione però il Vostox stava scendendo sotto i minimi vi ricordate era sceso sotto i 16.40 a me un mercato che scende con il Vostox con la forza dei venditori che scende mi puzzo un po' poi è andato anche a 12.480 ha fatto molti più punti rispetto a quello è un classico rispetto a quanto ho chiuso io però poi avete visto nel pomeriggio come ha fatto 100 punti a rialzo cioè con la volatilità in calo il mercato non ha grossissima voglia di scendere al contrario se voi vedete il Vostox che scende e vi viene un segnale con la regressione a salire ci sono tutte le regole per provarci ognuno a suo rischio prenderà lo stop non è certezza di nulla perché un secondo dopo che siete entrati anche il Vostox può anche cambiare il vento e salire però l'idea è abbiamo buone carte perché sta roba qui funzioni comunque se volete saperlo è la prima cosa che guardo io prima di fare un click non diciamolo troppo in giro se no poi qualcuno che ci vuole manipolare i risultati fa scendere il Vostox e fa scendere anche i mercati no sono capaci i grossi squali anche di questo con tutto il rispetto dai si scherza non è detto che bisogna utilizzare la regressione solo per i grafici DAX 100TX regressione 131 si può utilizzare anche in questo caso con il grafico un'ora con il Fuzzi Mib settato a 100 periodi in questo caso a inizio 2018 ha fatto oltre 1000 punti discesa salita e qui quando io vedo un grafico un'ora una regressione e grafico un'ora sul Fuzzi Mib una regressione settata a 100 periodi scusate è vecchia però la devo ridire per gli amici da casa la sanno in sala quando mi sono trovato a uno dei tanti eventi ormai vengo in giro mi invitano gli amici di Webank dal 2009 ancora non si sono stufati io non mi stufo di essere loro ospite vengo sempre volentieri mi trovo un signore di mezza età siamo tanti non mi ricordavo il nome il quale mi ringrazia per aver fatto 1000 punti con il grafico un'ora regressione è vecchia però è la realtà mi ha detto 1000 punti sono 5000 euro la prossima volta metti 10 fib così pensi di fare un sub da 50.000 euro e mi ha detto ma quelli di Webank ti hanno detto già quello che ho in portafoglio perché avevo indovinato per dire quando comincia a andarvi bene non fate l'errore classico che facciamo tutti ci entusiasmiamo e non dico aumentiamo gradatamente le size ma sbagliamo completamente il nostro profilo di rischio questo è un utile fatto uno di questi giorni con la regressione niente di che i soliti 20 punti ok con due mini DAX ecco questo era il segnale alle 9 alle 9 parte in in nero e continua in nero fino alle 10 quando quando succede una cosa del genere abbiamo gli amici che sciortano qua gli amici che sciortano qua gli amici che si stoppano gli amici che non si stoppano e poi quando gli dopo essere andati in perdita di 40 punti ti va inutile ti dicono vedi più o meno ho sciortato al prezzo che dovevo sciortare baro perché tu sei andato sotto di 40 punti e non l'hai detto quindi c'è un motivo se noi cerchiamo di utilizzare la regola se abbiamo visto che è più facile che scenda quando gira la regressione ma lasciamolo stare qui lasciamolo stare qui se vogliamo fino a quando rimane nero al nostro rischio e pericolo non abbiamo una statistica che aiuta ma possiamo provare solo long questa è l'idea cioè noi dobbiamo avere un semaforo non dobbiamo avere un metodo per sé perfetto dobbiamo avere qualcosa che ci bacchetti sulle dita per togliere questa tendenza infinita che non riusciamo a risolvere di anticipare di fare le cose contro trend sapete quante persone qua dei nostri hanno shortato e io vi assicuro che se shortate a 12.400 vi prendete uno stop a 12.430 sono 750 euro di DAX per poi scoprire che avreste potuto fare 80 euro di utile diciamo che per rimanere in termini civili che disturbo un po' esatto come minimo questo ottimo segnale di salita purtroppo essendo stato fatto alle 11.45 non è stato preso ci facciamo venire l'ulcera perché eravamo al supermercato qua non ci facciamo venire l'ulcera lui nella sua libertà può salire come quando vuole alle 11.30 alle 2.45 noi ci dobbiamo dare delle regole questo mi avrebbe fatto tanto dispiacere non averlo fatto mi avrebbe fatto tanto dispiacere averlo anticipato non mi dispiace per niente dopo le 11 non averci provato come entrata se entra alle 11 meno 1 e poi il segnale va avanti e va avanti dopo che si è entrato c'è lo stop e c'è il profitto e poi dopo dopo le 3.30 adesso anzi lascio un po' di spazio agli amici così guardiamo cose basic grafico settimanale di Eni il maestro è Orazio dove è Orazio? ci sei? confermi ti piace questa analisi settimanale di Eni sì? ok eh qui boh speriamo che tenga sta roba qua perché se no ho rischio di essere inseguito a badilate dalla sorella avendo la delega sul conto o qualcosina ho comprato speriamo bene a suo rischio pericolo non lo sa però la delega parentesi non fate nulla che sia gestione abusiva dei risparmi eh mi raccomando se operate per un familiare non per amici vi rovinate sia i conti che gli amici abbiate solo deleghe ufficiali e non noi naturalmente non non chiediamo soldi né a a privati né a professionisti a nessuno il nostro guadagno deve venire da qua super trend 4.000 volumi sul crude oil eravamo nei giorni della scadenza di di torno al 20 scadono mensilmente il crude oil già qualche giorno prima quando vediamo che quello più scambiato diventa quello del mese successivo 4.000 volumi della scadenza in cui c'è maggior scambio hanno un significato maggiore rispetto a quella attuale per cui siamo passati alla scadenza di aprile già il 20 marzo anche qui dei trend soprattutto al pomeriggio sono naturalmente alle 3 di notte non siamo stati qui a prendere il segnale se noi riuscissimo a far evitare di acquistare da qualche parte qui perché è sceso troppo e tanto rimbalza vi assicuro e vi lo dirà anche Fabio che se vogliamo fare le indagini dobbiamo essere come dei bravi poliziotti la soluzione è sempre quella più facile quella più banale hanno esagerato con gli importi hanno messo lo stop hanno comprato contro trend però stiamo arrivando al decimo anno che proponiamo queste cose vorremmo vedere qualche miglioramento chiudo parafrasando quello che diceva Einstein cerchiamo di diventare non persone di successo ma almeno un uomo di valore la mailing list per gli amici da casa mi raccomando noi sottolineiamo che non si assumono responsabilità per eventuali perdite abbiamo ottime chance di rimanere amici per tanto tempo c'è il nostro gruppo telegram noi siamo contro le chat siamo ospiti dalla chat di Alessio sono ospiti nel canale di Nicola ogni tanto posto qualcosa però trovarmi 500 messaggi in poche ore o faccio il chattaro o faccio il trader devo decidere non riesco senza offesa per chi sta per carità chi trova bene trovare amicizia eccetera l'unica cosa che ho trovato nella nostra chat amichevolmente abusiva chiamata amici delle tartarughe al quale invito ognuno a non partecipare degli errori tecnici che hanno che mi fanno dispiacere per cui non vorrei trovare persone che perdono per avere avuto delle indicazioni errate là venite qui agli eventi seguiteci da casa seguiteci dal vivo mandateci le mail io spesso faccio mezzanotte per rispondere messaggi quindi sono lieto di fare mezzanotte e mezzo se se cresceremo ancora di più e almeno vi diamo qualche tecnica più possibile oggettiva ognuno poi la studierà a suo rischio e pericolo fate la foto in questo canale o mi mandate l'email direi scegliete voi come proseguire abbiamo abbiamo ampio spazio grazie di tutto questo è il nostro canale e soprattutto non iscrivetevi al canale telegram senza essere iscritti alla mail in list dove vi manderemo la vera teoria grazie a tutti anche agli amici da casa e siamo ancora qua per vedere poi l'apertura degli Stati Uniti pausa 3.35 riprendiamo poi 3.50 quindi abbiamo ancora un bel 50 minuti prima della pausa state con noi come si suol dire e soprattutto agli amici che sono venuti continuate a venire dal vivo che secondo me è meglio eccoci qua entriamo un po' nel vivo del discorso che volevo farvi oggi allora abbiamo un titolo con si vede bene si con frame due minuti anche qui i parametri lo dico sempre non sono tassativi se usate tre minuti o un minuto tende a funzionare lo stesso se al posto di queste due regressioni le usate altre con parametri vicini tendono a funzionare lo stesso è un discorso chiaramente di riferimento perché se devo fare una statistica se devo fare un lavoro qui con voi devo comunque mettere delle ipotesi e dare qualche numero fisso una è la 131 perché la 131 perché è un po' massimo la proposta e io non volevo discostarmi da questo discorso poi ne ho pensata un'altra un po' più rigida e poi la prossima volta vi faccio capire anche perché di questo diciamo aggettivo più rigida che in qualche modo l'accompagna questo è un numero chiaramente della serie di Leonardo Pisano detto anche Fibonacci anche qui se fosse 240 230 210 260 poco cambia cosa come le utilizziamo io ho pensato innanzitutto a un'ipotesi per questa tecnica che è quasi esclusivamente intraday si può protrarre sul giorno successivo e ha il vantaggio che questo titolo essendo di diritto estero non paga la cosiddetta top in tax quindi è esente da questo discorso che potrebbe magari essere poco influente nel caso di quando abbiamo quanto abbiamo visto la volta scorsa su un grafico 45 minuti perché i target sono molto più ampi ovviamente nel caso del due minuti a fare un discorso intraday e fare un discorso multiday da questo punto di vista anche fiscale le cose possono anche cambiare l'ipotesi operativa è questa ho fatto una regola operativa iniziale perché non sapevo esattamente come partire ogni tecnica è sempre impostata come un tema di ricerca quindi con delle ipotesi di partenza e con un qualcosa da ottenere nulla osta che poi durante il cammino qualche regola la si possa cambiare in modo ragionato e magari è una cosa che ci fa riprendere poi da capo quindi chiusura di barra oltre le due regressioni concordi per concavità e inclinazione entrata sul livello di questo setup oppure con un ritracciamento statistico poi vi faccio un leggero ripasso specialmente per i nuovi e per gli amici a casa ma sono tre o quattro slide non di più lo stop è un po' il mio modo di vedere le regressioni diciamo non è un capriccio il fatto di non pensare a uno stop espresso in punti che comunque è e rimane una soluzione anche valida perché se i numeri a livello statistico mi danno ragione posso mettergli stop anche a seconda delle fasi lunari o altro cioè a me interessa guadagnare non mi interessa tanto far della filosofia però dal mio punto di vista il fatto di mettere lo stop su un estremante opposto massimo minimo alle regressioni non solo ha una validità statistica ma come vedremo la prossima volta ha anche una forte validità matematico fisica cioè si può interpretare anche con un modello di funzionamento matematico fisico e lo vedremo un po' la volta prossima non tanto per fare un discorso di chicca visto che siamo in una specie di anno accademico ma perché è una cosa che in questa guisa e per altre situazioni può avere anche delle conseguenze abbastanza pesanti non voglio farmi prendere lo stop se non proprio così a livello sul valore ci metto uno o anche due centesimi in più come spazio il target è come sempre statistico veniamo a noi apro il computer un bel giorno e mi trovo le due regressioni concordi per concavità e inclinazioni hanno cambiato colore tutte e due allora sono tutte e due girate in negativo la 233 in questo caso è negativa se è di colore blu scuro positiva se è di colore azzurro la 131 è positiva se è colore verde negativa di colore rosso qua sono tutte e due negative quindi dovrei entrare short qua secondo la mia ipotesi oppure aspettare quello che è rr cioè è scattato il setup magari il prezzo mi può tornare indietro un po' e posso magari 1 2 centesimi 1 2 centesimi fare o anche di più fare un discorso di risparmio sul prezzo in realtà da quando ho preparato questo lavoro il tic minimo è un po' cambiato nel senso che qui è in classe E di tic minimo è il mezzo centesimo come tic minimo ma riconsiderando tutto e facendo pure i valori interi la statistica non è cambiata e non cambia neanche con i valori attuali allora che cos'è l'rr come definizione è un ritracciamento dei prezzi dopo un segnale tecnico cosa vuol dire qui siamo su euro dollaro ho due supertrend io posso entrare su un supertrend con parametro minore o uno con parametro maggiore è un vecchio studio che avevo fatto posso entrare sul segnale secco del supertrend oppure posso aspettare qualche pip in questo caso siamo su euro dollaro più in basso posso entrare qui risparmiando questo pezzo poi mi va a target oppure pensando al supertrend più grande posso entrare sul segnale proprio oppure posso aspettare un ritracciamento e inserire i miei dati qua allora questo calcolo è anche questo frutto di statistica io vado a vedere per ogni tecnica per ogni situazione per ogni strumento quanto è possibile pensare di risparmiare sul segnale di ingresso e soprattutto quante volte cioè il quote quante volte il quote quanto e il quotient quante volte allora cosa si può fare anche avevo pensato anche un canale tipo per calcolare l'rr in modo visivo usando una media mobile quattro periodi semplici sui massimi per quanto riguardava lo short per i long una media mobile quattro periodi semplici sui minimi se vedete io qui sto facendo il long considerando la media sui minimi se vedete gli rr vanno guarda caso ad appoggiarsi nell'intorno di questa media mobile è un discorso di canale tipo che non è questa farina del mio sacco joe ross l'ha pensata per un altro tipo di discorso per una tecnica di ingresso in posizione io l'ho pensata come discorso visivo di entrata con un risparmio di prezzo ma questo è io comunque prediligo il discorso statistico l'importanza dell'rr per me il parametro di guadagno e di rischio è un parametro che non ha dimensioni non guardo mai cioè lo calcolo ma non considero mai a livello operativo un gain o uno stop in punti guardo sempre le due cose in relazione punti fratto punti cioè un numero puro non ha dimensioni se io guardo a vedere usando l'rr per il gain devo aggiungere dei punti che ho risparmiato per lo stop devo togliere i punti perché in qualche modo entrando a un prezzo più di favore risparmio qualcosa dallo stop numeri se avevo un gain di sette punti con uno stop di diciotto ottengo un certo rapporto gain stop ma se avessi un rr pare a due punti sommo due punti a numeratore li tolgo denominatore da 0,39 passo a 0,56 con questo piccolo stratagemma ho aumentato il rapporto gain stop addirittura quasi del 50% quindi è un qualcosa che può veramente stravolgere il discorso statistico veniamo a noi entro qui ho un piccolo rr di qualche punto io metto ho messo un punto in questo caso per me lo stop dov'è? sul massimo dall'altra parte delle regressioni più un punto quindi là sopra come avevo scritto con le ipotesi difficilmente prendo in considerazione un gain se questo non è almeno la metà di quello che ho rischiato in virtù di quanto ci siamo detti con la regola numero due stamattina una tecnica usata in modo sistematico cioè continuativo su uno strumento è valida se io almeno in 80 casi su 100 posso portare a casa metà del rischio quindi per me è un dato fondamentale qui vado a target adesso vi faccio vedere cosa ho scritto su excel e qua nasce un'altra operazione perché ho le due regressioni attenzione io non le ho pensate all'inizio come mutua posizione cioè in cui nel long ci deve essere per forza quella più diciamo così più veloce al di sopra e quella più lenta sotto perché come vedete nel caso di prima non è così qui avrei dovuto vederla 131 sotto la 233 per fare lo short io ho allargato le maglie inizialmente dell'ipotesi mi basta che tutte due siano coerenti per concavità e inclinazione quindi se io vado a vedere questa è diventata verde questa è azzurra qui mi nasce un long con lo stop che più o meno sarà là sotto io l'operazione di prima me la sono segnata 20 punti di rischio 1 di rr il gain è 11 questo non è nient'altro che 11 diviso 20 è il mio rapporto gain stop vado avanti e vi hanno detto c'è questo long in ballo quindi lo stop è là sotto perché è l'estremante opposto alle regressioni bene qui ho un rr più robusto volendo vedere vediamo cosa sta succedendo c'è un rr che sarà in circa 8 punti adesso poi vediamo sulla tabella excel cosa ho segnato vado avanti e qui mi nasce un'operazione opposta dall'altra parte perché qui addirittura le medie mobile si incrociano e queste sono le cose che mandano un po' in crisi perché quest'operazione l'ho conclusa questa è in essere perché sono entrato o qui o con questo rr e adesso si mette dall'altra parte un discorso di un'operazione uguale e contraria perché comunque qui ho un incrocio addirittura l'incrocio comunque ho la coerenza di colore e concavità delle regressioni e qui c'ho lo stop che faccio le tengo insieme e questo è lo stop per il long bravo ma quello là è un'operazione conclusa per questo long lo stop è qua sotto per questo short lo stop è qua sopra sì ecco un punto la discussione è questa le faccio tutte e due dato che per esempio con WeBank posso benissimo avere la concomitanza delle due posizioni long o short perché lo short me lo tengono in marginazione e quello long no quindi avrei la possibilità di farle tutte e due io vi dico cosa sarebbe successo e poi vi dico come la penso io le regressioni se interpretate così possono dar adito a una possibilità e a una particolare confusione la possibilità di avere un segnale congruo che è concomitante a quello che c'è in essere può funzionare qualche volta può funzionare no vediamo cosa sarebbe successo poi prendiamo insieme una decisione qui sarebbe successo che ho ancora in corso il long perché questo stop qua sotto non me l'ha preso vedete e sarebbe andato perfettamente a target lo short quindi in teoria avrei potuto accendere questa posizione short e chiuderla prima ancora di aver chiuso questo long è una possibilità io personalmente specialmente per chi all'inizio sconsiglio di interagire in questo modo perché può creare un po' di confusione specialmente a mani non esperte se c'è un discorso di long in ballo io l'ho segnata lo stesso questa operazione però questa qui andrebbe trascurata dovrei cercare o lo stop qua se ci va o il target long che è almeno metà di questa distanza io vi dico che le ho segnate tutte e due però come consiglio da amico vi dico specialmente chi vuol tentare chi vuol provare di evitare questi discorsi perché possono creare parecchia confusione io mi sono segnato lo short che è andato in porto con questo rischio questo rr questo gain e ho lasciato ancora in bianco il gain di questo long perché non è ancora andato in porto che caratteristiche avevano le prime due operazioni e la terza che è un po' diversa le prime due operazioni comunque non avevano l'incrocio in quel punto e poi comunque non erano coerenti per mutua posizione perché come ho detto prima la 131 avrebbe dovuto stare al di sotto della 233 qui l'incrocio al rialzo non c'è stato perché c'è stato molto prima con un'altra operazione invece qui l'incrocio c'è stato vedete la 131 va sotto la 233 e in questo punto c'è anche il cambio di colore e concavità di tutte e due le regressioni quindi ho una grande coerenza in questa operazione no se tu hai iniziato un'operazione non stopparla con altre operazioni in corsa quello mai piuttosto evitale le altre operazioni in corsa ma non usarle mai per stoppare una che è già in essere perché rischi di prendere due sberle te lo dico per esperienza personale perché ne ho prese tante 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 quindi te lo sconsiglio vivamente volevi chiedermi qualcosa volendo sì con diciamo così il nostro amico diceva ma qui ci sei una coerenza delle due regressioni per concavità e diciamo così inclinazione in teoria lo short l'avrei potuto attingere qua con stop lì è praticamente la stessa operazione di prima per quello che non l'ho segnato ho voluto segnare questa qui perché era un pochettino più carina però c'era da quel punto di vista lì come ipotesi iniziale scusa Fabio dimmi approfitto perché da casa ti fanno una domanda ma quando si parla di colore e concavità di una regressione non è la stessa cosa? assolutamente no sono due cose completamente diverse e infatti io mi proponevo di fare proprio un chiarimento su questo discorso perché quando c'è un cambio di concavità adesso lo vediamo bene succede una cosa del genere guardate qui ho questa curva che è ancora inclinata negativamente però se io dovessi tracciare un'ipotetica tangente a questa curva vedrei che prima la curva sta sotto la tangente e a un certo punto da questo punto circa in poi la curva sta sopra la tangente nel punto quindi il cambio di concavità avviene proprio quando c'è un mutuo scambio di posizioni tra la curva e la sua retta tangente non sono concetti semplici per chi è un po' di giuno di analisi matematica però è una cosa che volevo far vedere poi sicuramente al prossimo incontro in un modo un po' più semplice quando cambia colore quando la tangente alla curva anziché essere inclinata in questo caso negativamente prima diventa piatta e poi diventa inclinata positivamente quindi sono due concetti che sono visivamente sembrano la stessa cosa ma sono due concetti profondamente diversi specialmente per il significato fisico matematico che c'è dietro e che poi mi ha portato a pensare al posizionamento di uno stop sulle regressioni fatto in un certo modo però è un discorso abbastanza lungo non lo farò quasi sicuramente al prossimo incontro e probabilmente non basterà nemmeno un incontro a farlo perché sono concetti importanti e ci vuole un po' di tempo per diciamo così farli digerire in modo semplice comunque non sono due cose uguali allora siamo qui io ho in essere questo long lo stop era qui a un certo punto si può accendere un altro long qua o lo accendo di suo tenendo conto che c'è questo long in corsa vedete qui addirittura ho un incrocio positivo entro in questa situazione ho lo stop qua oppure posso tenere questo long in essere perché comunque sono già in posizione long io li ho tenuti tutti e due guardate cosa è successo se io mi fossi stoppato qui con questa situazione perché le regressioni si incrociavano e quindi erano contrarie al mio long avrei preso uno stop del tutto gratuito perché l'operazione in stop non è andata e addirittura sono andate a target tutte le operazioni che ci siamo sognati fin qua non c'è stata nemmeno una che è andata a target perché gli stop così facendo non sono stati toccati questo è un vantaggio un po' dello stop grafico rispetto allo stop a punti perché torno a ripetere e vi verrà spiegato in seguito ha un significato anche molto profondo qui mi sono segnato le operazioni sempre con il rischio l'RR il gain il rapporto gain stop siamo in questa situazione adesso qui io ho lasciato apposta queste linee perché erano delle linee di segnalazione di resistenze dinamiche di canali portanti di trend che facevo vedere molto spesso in tv per quanto riguarda questo titolo e lo lasciate lì apposta perché uno dice ma no ma qui c'è la resistenza però non può andare sopra però non può andare sotto è un supporto è una resistenza uno è pensa di fare tante cose messe insieme invece quando si ha una tecnica bisogna ragionare solo in virtù dei parametri di quella tecnica non bisogna sconfinare perché altrimenti si rischia di fare un sacco di confusione qua sono diventate coerenti qui per concavità e inclinazione si sono incrociate qua io ho pensato da questo punto in poi di seguire più l'incrocio che la mutua diciamo così che la coerenza delle due regressioni a livello di concavità e di inclinazione però sta in piedi in entrambi i casi alla fine perché sarei entrato qui piuttosto che qui praticamente sullo stesso livello cosa succede con lo stop la guardate qui sarei andato overnight quel giorno dopo avrei fatto un signor target anche qui me lo sono andato a segnare ah una cosa io con gli orari sono un po' eretico nel senso che non mi interessano gli orari quindi le tecniche che eseguo le faccio non guardando gli orari anche se il mio orario operativo è dettato dagli orari di lavoro che faccio io per dirvi dalle otto a mezzogiorno alla mattina e poi dall'una e mezza alle cinque e mezza quindi c'è un discorso di sovrapposizione con gli orari canonici che siete abituati a sentire e c'è una parte una piccola parte tra le undici e le tre tre e mezza quello che volete che per me può essere benissimo segnale operativo qui ci sono incrociate molto prima ho un discorso di coerenza qua che inizia qui e lo stop è là qui potrei anche essere portato a dire eh però il grafico è molto dilatato però l'incrocio è venuto molto prima non lo so se funziona può darsi che non funziona io ho segnato questa operazione anche perché tenendo conto che lo stop era sotto il 40 vedete sotto il livello 40 che non ha più toccato perché sarebbe stato là sotto ho dovuto aspettare un po' sono dovuto andare overnight ma guardate che guizzo ho fatto qui c'era in concomitanza un discorso di coerenza short qua vedete che forse avrei potuto sfruttare un pochino qui io in questo caso non me la son sentita questo cosa vuol dire perché vi sto facendo questo tipo di statistica in modo se volete anche un po' imperfetto come la faccio vedere dettando delle regole e magari ogni tanto prendendo qualche decisione un po' borderline perché voglio valutare il mio modo di vedere il mercato di vedere quello che io sono capace di fare se io ragiono così voglio vedere se questo tipo di ragionamento mi può dare dei guadagni oppure se sono dalla parte sbagliata non devo venderla a nessuno questa statistica non devo farla bella apposta devo usarla per me per la mia stretta operatività è quello che io invito a fare anche voi se voi avete un dettaglio da inserire nella regola non è un problema inserirlo l'importante è che vi costruiate il vostro lavoro in real time sul mercato mi segno l'operazione vado avanti qui è una situazione obiettivamente molto molto dilatata c'è un gap c'è una situazione c'è un incrocio di medie che poi diventano coerenti per concavità e inclinazione lo stop posso provare qui il salto era anche notevole siamo andati bene non tantissimo siamo stati come target qui un po' sotto quello che è lo 0,50 io ho provato a segnarlo lo stesso e via dicendo arrivo a una situazione in cui c'è un incrocio molto bello cambiano colore tutte e due insieme sono vicine di solito sono operazioni abbastanza belle in questo caso non eccezionali perché guarda caso stavolta questa retta che faceva da supporto e resistenza ha funzionato bene da resistenza e mi ha fatto portare a casa proprio il minimo indispensabile qui c'è una situazione di coerenza inclinazione qua poi magari qui mi mangio le mani dico eh però qui ha già cambiato colore la 233 o mamma ho sbagliato cosa faccio non andrà bene non lo so quando si è in posizione ripetiamo per l'ennesima volta esiste solo lo stop e il target non esiste nient'altro c'è stato tutto un discorso in mezzo lo stop era posizionato intorno a quota 20.07 20.08 che non ha più toccato ha fatto tutto quello che volete c'è stato un RR anche importante e c'è stato comunque il target mi segno su Excel anche questo allora faccio un'altra operazione long sempre long qui lo stop lì ottengo questa situazione vado avanti qui sembra anche qui ampio il discorso c'è un incrocio bello qui con la coerenza lo stop là c'è un discorso di RR che però non mi va a toccare lo stop guardate quanto è importante posizionare lo stop al punto giusto perché il mercato tenta poi di ritornare indietro molte volte dopo il segnale tecnico il discorso di RR è importante mi segno l'operazione adesso non sto qui a commentarvi tanto perché tanto sono più o meno tutte della stessa della stessa desordine di grandezza qui ho sempre il dubbio dove non c'è l'incrocio se prenderla o no questa non l'ho presa in coerenza con quello che avevo deciso prima e arrivo a questo discorso la regola operativa iniziale era questa né più né meno io in quella finale ci ho aggiunto questo in concomitanza o immediatamente in seguito a un loro incrocio coerente questo è può discriminarmi qualche operazione però a conti fatti secondo me porta a dei vantaggi perché alla fine si rischia non tanto che la sola concordia per concavità e inclinazione sia sbagliata o che porti a risultati sbagliati ma con questo diciamo così accorgimento ho visto anche confrontandomi con amici che è più facile da vedere ed è indice di minori errori secondo me quando ho tutti quei dati cosa faccio? faccio una cosa del genere vado su Excel sulle funzioni statistiche per ogni colonna mi calcolo la media alcuni di voi arrivano alla tabella con tutti i record segnati per riga poi sono in difficoltà qua io l'ho già fatto a tanti mi date un vostro file Excel con i vostri dati io vi aggiungo io media deviazione standard e percentili ve lo rimando cosa meno ce l'avete a posto e lo potete utilizzare anche per tutti gli altri studi che volete fare la deviazione standard sì sì l'ho fatta vedere prima e poi il percentile il percentile che cos'è è qualcosa che mi dice guarda che se io sono al percentile 0,2 cosa vuol dire che tutto quello che c'è sopra il primo 20 per cento della popolazione cioè l'80 per cento della popolazione ha almeno quel valore vuoi di rischio vuoi di rr vuoi di guadagno vuoi di rapporto gain stop e ottengo questa tabella media deviazione standard 25 casi su 100 50 su 100 5 su 9 70 su 100 80 su 100 fino a 95 su 100 perché qua ci sono due colonne diverse perché questa è la statistica dei casi che abbiamo visto insieme non avendo preso nemmeno uno stop è chiaro che sono tutti positivi non ce n'è nemmeno uno in realtà quella su centinaia di casi non sono 50 o 60 sono più di 300 tanto per essere chiari arrivo a questo discorso che è un pochettino peggiorativo però se voi guardate in 80 casi su 100 sono praticamente a 0,5 come gain stop quindi è una tecnica che può stare a galla di per sé una prima analisi come discorso statistico dei dati quando ho la media e la deviazione standard in cui la deviazione standard è un po' più piccola della media cosa mi sta dicendo? la media e la deviazione standard se la deviazione standard è piccola mi dice guarda che nell'intorno della media ci sono molti dati la media è obiettivamente una forte stima del valore che tu puoi ottenere dal mercato vuol dire se la deviazione standard è più piccola della media in soldoni parlando da trader che la tua tecnica è stabile che ha un discorso di validità di per sé a livello statistico la media è obiettivamente un valore rappresentativo chiaro io per fare trading uso sempre il rapporto 0,5 ve lo dico subito con qualsiasi tecnica con qualsiasi strumento in qualsiasi caso e se in qualche caso ottengo 0,6 0,7 io quando arrivo a 0,5 metto lo stop in pari punto se vogliamo vederla dal punto di vista grafico la vediamo così non è che cambia molto c'è la tabella con il discorso gain stop in tutti quei casi la potenza di RR io vado indietro e vedo qual è il mio rischio medio 19 punti bene vado avanti se ottengo 8 punti su 19 come guadagno ho uno 0,42 come rapporto gain stop ma siccome io il discorso RR lo ottengo praticamente in 5 casi su 9 più della metà posso pensare che molto frequentemente posso fare non 8 ma 8 più 3 non pagare 19 ma 19 meno 3 partendo da un rapporto gain stop di 0,42 e arrivando quasi a 0,70 voi mi capite che nella dinamica di un trading di tipo sistematico questa cosa cambia il mondo cambia l'universo è una cosa completamente diversa ragionare in questo senso ma anche solo un punto due punti possono far la differenza perché comunque voi con un punto magari ci pagate le commissioni non è una cosa da poco la domanda che mi hanno fatto in tanti stamattina è tu parli di questo titolo ma poi funziona sul DAX funziona sul NASDAQ funziona sul petrolio funziona così allora parliamoci chiaro zig zag lo dicevo ad alcuni stamattina super trend regressioni lineari sono degli indicatori che seguono il movimento dei prezzi punto quindi se io ho un frame dei prezzi e un parametro di questi tre strumenti zig zag super trend e regressioni e poi verso la fine dell'anno se riusciamo faremo un lavoretto come l'anno scorso una specie di tesina che farà vedere una cosa interessante tra i tre secondo me se ci riesco ve la porto se ho il parametro di questi indicatori che mi fa vedere quanto i prezzi evolvono con dei trend intermedi a cavallo di questi strumenti o per esempio se lo zig zag interpreta bene l'inversione di un trend io posso tranquillamente essere sicuro che mi funziona su tutto se c'è un trend se c'è un movimento dei prezzi o un parametro chiaramente deve essere coerente se qui al posto della 233 usavo la 2300 è chiaro che le cose erano diverse io vi ho detto non è diverso se faccio qualcosa di qualche unità o al limite della decina vicino cioè sono non sono tassativi i parametri in quell'intorno io delineo dei movimenti se il prezzo non è un encefalogramma piatto che non va proprio da nessuna parte questi strumenti sono in grado di darmi delle indicazioni operative una cosa guardate un po' questo qui è il DAX c'è la 131 di Massimo con i due minuti Massimo usa i 100 tic ma vi posso assicurare anche con un minuto due minuti non è poi così diverso chiaro bisogna fargli la statistica apposta bisogna studiarli apposta così ma quante volte io vi posto il discorso della dinamica della prima ora sul DAX e vedete sempre super trend la 34 l'89 e vi dico sempre vi metto magari anche la 131 ma anche questa avrebbe dato un segnale o po' prima o po' dopo ma coerente con il discorso guardate in questo caso qui siamo fuori orario 18-19 la 131 va sopra la 233 lo stop e qua guardate che cosa portavo a casa inizio giornata inizio giornata qui le cose andavano un po' peggio perché il vero incrocio era qua quindi non avrei portato a casa granché se avessi usato la sola coerenza della curvatura cioè la concavità e l'inclinazione sarebbe entrato qui sarebbe stato un bel trade qui siamo che ore siamo alle 14 anche qui leggermente fuori orario la 131 supera la 233 che lo stop sia qui o che sia qua non interessa quello che viene fuori mi fa portare a casa almeno lo 0,50 di quello che ho rischiato qui c'era il rosso sulla regressione e quindi uno sarebbe stato tentato sulla 131 ad andare short ma avrei avuto la non coerenza della 233 che mi avrebbe salvato attenzione non è sempre un filtro efficiente in alcuni casi lo fa in altri no quindi non è che voglio dire abbiamo trovato l'uovo di colombo che vi para il fondo schiena da queste situazioni è una possibilità da studiare qui anche qui siamo fuori orario siamo alle 20 fine mercato tutto quello che volete si incrociano sono coerenti entro qui lo stop è là guardate cosa ottenevo eh? cosa ne dite? una follia questa qui è stamattina ieri pomeriggio fuori orario alle 18 incrocio positivo c'era il Nasdaq che andava alle stelle ieri incrocio positivo qua entro qui lo stop è là guardate cosa avrei ottenuto stamattina avrei potuto entrare anche subito dopo l'ingresso l'apertura del mercato alle 8 e qualcosa all'incrocio delle regressioni con lo stop là su e guardate cosa avrei fatto qui non ci sarebbero state probabilità possibilità di sbagliare perché comunque c'era la coerenza della posizione del colore delle regressioni avrei fatto un signor trade sorpresi? là sopra là sopra là sopra dall'altra parte se entro qui lo stop è là non ci sono santi alle 8 e 8 e 10 8 e 8 attenzione però a non fare adesso adesso ho finito un secondo ho finito a non far commissioni tra le varie tecniche mi raccomando perché questa è una cosa che va a sé sul Nasdaq è la stessa cosa se guardate non cambia niente sui due minuti è quello che poi vi ho giusto un parallelo da fare ma lo facciamo dopo sono proprio due slide e poi chiudo eh allora per rispettare i tempi anche con gli amici da casa facciamo 10 minuti di pausa fino ai 45 Fabio completerà le ultime due slide poi abbiamo vediamo un po' cosa sta aprendo il mercato e poi abbiamo l'esperto di opzioni Paolo da non perdere mi raccomando allora noi siamo qui per le domande anche private mentre le telecamere sono spente 10 minuti e 15 e 45 ci ritroviamo ancora insieme ricordiamo agli amici da casa che non potessero seguire dopo ci ritroviamo il 15 marzo ancora qui poi avremo dei webinar l'8 marzo e il 20 marzo sempre io e Fabio e Fabio Gaudioso poi faremo vedere anche che la strategia di opzioni fatta da Fabio Gaudioso stamattina sta portando anche dei risultati facciamo vedere la slide sì se no pensa che io non gliel'ho fatta vedere no Grazie.